Stavamo doppiando Caccia a Ottobre Rosso, io seguivo con lui da un anno, mancò un attore che doveva fare un brusio perché era malato e lui mi fece con il suo vocione per una fassa battuta, vedevo come d'agami, e io l'ho fatto a 22 volte, alla 22esima volta, era la mia prima riga, era un soldato che diceva comandante da questa parte e poi moriva. No, e poi l'emozione ti spinge a dire ma come devo morire se devi morire?